bella a tutti ragazzi qui è teddy e benvenuti ad un nuovo video allora parto subito con lo spiegarvi perchè parlo così basso perchè dietro di me è così buio perchè non c'è il classico sfondo della stanza mia di orlando nella bolla allora partiamo subito con l'orario beh anzi partiamo subito col dire che io sono ancora nella bolla voi pensavate voi pensate che questa non sia la bolla ma in realtà come dicevo su twitch questa camera l'ho fatta a immagine e somiglianza della vera camera mia in italia per non sentirmi troppo lontano da casa mia quindi questa è un'altra stanza d'orlando che io uso appunto per registrare i video ed è fatta a immagine e somiglianza di camera mia quindi sono ancora a orlando tranquilli non preoccupatevi ovviamente qui a orlando oramai è notte abbiamo passato la mezzanotte anzi a dire il vero è l'una quasi le due del mattino perchè sono le sette del mattino in italia quindi più o meno è l'una del mattino qui a orlando motivo per cui non sto urlando motivo per cui appunto non c'è non solo nell'altra stanza perchè questa è un pochino più isolata dobbiamo parlare di un sacco di cose in questo video dobbiamo parlare di gara 1 e gara 2 quindi delle prime due partite delle finals ho aspettato a parlare di gara 1 perchè appunto è stata una partita abbastanza particolare quindi ho aspettato gara 2 prima di comunque tirare dei fili di tracciare delle conclusioni purtroppo sappiamo che Adebayo e Drogic si sono infortunati e quindi gara 2 tecnicamente sulla carta doveva essere una partita scontata per i Lakers una partita da vincere in carrozza non è proprio stata una partita facile diciamolo però adesso spiegherò i motivi per cui questa gara 2 è stata un pochino più aperta secondo me del solito dobbiamo parlare di trade rumors perchè i Clippers a quanto pare sono interessati a tradare Paul George ai Brooklyn Nets la fonte Jason McIntyre di Fox Sports dobbiamo parlare di Tyron Lu che sarà intervistato dai Pelicans dai Clippers e dai Rockets quindi insomma anche qua la corsa agli allenatori continua in NBA dopo Doc Rivers che è andato a Philadelphia e parleremo anche di Doc Rivers a Philadelphia e poi direttamente da Sportando le parole di Kyrie perchè Kyrie ha detto un paio di cose che voglio dire bene ma non benissimo Kyrie quindi partiamo subito dalle Finals che magari è l'argomento più importante in questo momento così chi vuole sentir parlare delle Finals può farlo subito e poi e poi invece gli altri discorsi sono invece per chi è un pochino più interessato a 360 gradi allora 2-0 Lakers per la prima volta in carriera Lebrone 2-0 in 10 appuntamenti alle Finals Anthony Davis continua il suo percorso di distruzione di massa gara 1 c'era De Baio gara 2 non c'era De Baio e la differenza si è vista soprattutto nel terzo quarto che è stato un quarto terrificante di Anthony Davis 7 su 8 nel primo tempo 15 punti 7 su 8 nel terzo quarto 15 punti per Anthony Davis quindi che chiude a quota 32 14 rimbalzi 15 su 20 dal campo in gara 2 una partita dominante sua 33-9-9 Lebron James età 36 e partita vinta dai Los Angeles Lakers ma gara 2 non è stata una partita facile e io credo che gara 2 i Lakers l'abbiano giocato un pochino più in carrozzo un pochino più in scioltezza perché appunto consapevoli che l'avrebbero vinta consapevoli del fatto che l'assenza di Dragic e l'assenza di Adebayo erano due assenze troppo importanti per Miami da superare Adebayo ripeto secondo me è il giocatore di Miami non me ne voglia Butler non me ne vogliate voi contro Butler ma Adebayo è il giocatore di Miami Adebayo è il perno su cui ruota tutta Miami in attacco e in difesa senza Adebayo la differenza si è vista è anni luce Miami lontana dall'essere la miglior Miami la partita comunque è rimasta aperta la partita comunque è stata giocata dai Miami Heat non si sono arresi hanno continuato a giocare ripeto secondo me i Lakers hanno giocato molto al di sotto le loro potenzialità le vere potenzialità dei Lakers le abbiamo viste nel secondo quarto di gara 2 il secondo quarto di gara 2 sono i Lakers al 100% è lo splendore massimo dei Lakers comunque ci arrivo anche a gara 1 finisco di parlare di gara 2 perché ovviamente era la più diciamo scontata tra virgolette la più indirizzata tra le due partite una partita che è stata decisa ancora una volta secondo me dalle due superstar perché come vi dicevo nel video presentazione delle finals Miami gioca a pallacanestro però dall'altra parte ci sono due giocatori che onestamente insomma sono incontenibili sono troppo forti sono esagerati nella loro superiorità tecnica Davis è qualcosa di onestamente inspiegabile cioè letteralmente è inspiegabile Davis è veramente inspiegabile altrettanto inspiegabile forse ancora più inspiegabile è come Lebron riesca nonostante l'età a tirar fuori prestazioni ancora una volta come quella di stasera dominanti sotto tanti punti di vista in difesa anche Lebron sta difendendo Lebron sta difendendo tanto nei momenti importanti di solito nel primo quarto lui non difende molto ma dal secondo quarto in poi anche in gara 1 ho visto un Lebron molto molto concentrato anche in fase difensiva che non è scontato vedendo anche la sua carriera dal punto di vista difensivo negli ultimi anni in particolare vedere un Lebron così concentrato anche in difesa fa capire quanto la voglia di questi Lakers fosse e sia alta che comunque vedere un Lebron così in difesa fa capire quanto questa squadra evidentemente sia unita e quanto Coach Vogel che secondo me è forse un po' come dire messo da parte quando si parla dei Lakers perché lo strapotere di Lebron è troppo evidente per non sparlare e straparlare di loro però Vogel onestamente parlando ha messo una mano in queste prime due partite abbastanza importante sulla serie in particolare gara 1 una gara 1 che i Lakers hanno iniziato in maniera tragica 25 a 10 a un certo punto per Miami sembrava una partita veramente a un certo punto quasi irrecuperabile per i Lakers una partita dove Miami ovviamente da underdog Miami da squadra che ovviamente parte svantaggiata per queste finals parte a mille all'ora cerca di dare il tirone magari portarsi a casa gara 1 in qualche modo magari sai fa lo strappo iniziale ci portiamo a casa gara 1 e e basta e poi pensiamo a gara 2 quindi una partita ce la portiamo a casa prendere un po' in contropiede i Lakers in controtempo nel senso entriamo subito forte gara 1 ci buttiamo aggressivi giochiamo al 120% ci diamo tutto quello che abbiamo magari i Lakers un po' si scompongono fanno un po' di difficoltà ad entrare in partita noi invece ci buttiamo a capofitto e la portiamo a casa tutto questo è successo fin quando i Lakers poi non sono saliti in cattedra perché gara 1 mia mia opinione i Lakers hanno stradominato la partita e il punteggio ovviamente lo dice ma quello che intendo dire è che i Lakers hanno più vinto la partita che l'han persa Miami nel senso che la difesa da metà primo quarto in poi fino al terzo quarto perché poi vabbè il quarto quarto garbage time ma dal primo dalla seconda metà del primo quarto fino alla fine del terzo quarto la difesa dei Lakers è stata impeccabile ed è stata una difesa allucinante volete un esempio Duncan Robinson Duncan Robinson fino alla serie con Boston era forse il giocatore più insieme a Irro più miccia più pericoloso quello che si accende e mette tre quattro cinque canestre di fila ti mette dieci punti in un amen ti mette tre triple che ti spezzano la partita come le prende Duncan Robinson queste triple beh l'abbiamo visto anche in questa serie con i Lakers l'ho detto più volte su Twitch tutti i link sono in descrizione comunque l'end-off alto l'end-off alto a Debaio con un giocatore che va a bloccare per Robinson quindi end-off alto con Debaio e se il difensore di Debaio non esce alto per marcare il tiro Robinson in quella situazione di catch and shoot è uno dei tiratori più letali della NBA i Lakers come hanno fatto in gara 1 i Lakers sono usciti molto alti su Robinson Howard il marcatore di Debaio che Howard è partito titolare in entrambe le partite molto bene Dwight in queste finals per quello che deve fare ovviamente Howard è uscito sempre molto alto su quel tipo di situazione impedendo Robinson di tirare e Robinson ha fatto zero punti in gara 1 e in gara 2 ha segnato un po' di più ma onestamente parlando tagliato completamente fuori cioè Robinson Duncan Robinson sta facendo vedere quello che è un po' il problema attuale di questo tipo di specialisti cioè quando tu togli la parte principale di questi specialisti ottieni sostanzialmente niente perché Duncan Robinson se non segna in attacco certamente in difesa non ti prende le brone e te lo cancella dalla partita non ti prende Davis e te lo cancella Robinson è un po' un buco un buco nero in difesa e la zona serve per limitare queste sue lacune come quelle di Irro come quelle di Nan come quelle di Dragic e chiaramente se Robinson nella parte offensiva ti fa zero nella parte difensiva non puoi certo sperare che faccia 5 rubate e 5 stoppate che non vuol dire difendere vuol dire semplicemente rubare 5 palloni e fare 5 stoppate quindi impedire sostanzialmente 10 tiri agli avversari ma ha poco significato cioè il senso che sto cercando di dare a questo discorso è che i Lakers hanno dominato in lungo e largo gara 1 non è Miami che ha giocato male per quanto Miami ripeto sia underdog e quindi le partite che evidentemente Miami vincerà se le vincerà a questo punto perché questa gara 2 ha spezzato un po' diciamo l'andamento della serie forse sarà un 4 a 0 a questo punto perché bisogna vedere anche come rientra Debaio in gara 3 perché Debaio torna in gara 3 ma come Dragic giocherà a gara 3 insomma Dragic ha una lesione alla pianta del piede muscolare una lesione muscolare insomma non è una cosa che superi in due giorni con un po' di Vina di Vinaville no di Lasonil si sono le scusate sono le letteralmente le 7 del mattino in Italia quindi capitemi ecco ovviamente Miami le partite che vincerà se ne vincerà una o se ne vincerà di più saranno sicuramente per tanti dei meriti Lakers perché gara 2 secondo me è l'esempio lampante di come i Lakers in controllo Lakers in scioltezza possano gestire una partita i Lakers hanno fatto sfogare Miami nel primo quarto hanno cercato l'allungo nel secondo lo hanno trovato nel terzo e poi hanno sostanzialmente gestito la partita Miami è rientrata penso fino almeno 9 come massimo come minimo svantaggio poi invece i Lakers hanno sempre risposto punto su punto canestro su canestro agli hit e alla fine la partita è finita quindi ecco direi che la vera partita è stata gara 1 e in gara 1 si è visto tra le due squadre titolari e in salute perché Adebayo si è fatto male a fine partita Dragic si è fatto male nel primo tempo ma comunque i Lakers erano già molto in vantaggio Butler che era quello che in realtà doveva farsi più male di tutti alla fine si è fatto meno male di tutti perché quella brutta scivolata con mega distorsione triplice della caviglia almeno sette legamenti del ginocchio si sono incrociati in quella in quella slittata Butler non si è fatto nulla inspiegabilmente in quello che è successo si è fatto male a Debayo in maniera un po' durante uno scontro con Howard Dragic si è fatto male praticamente da solo estendendo il piede durante uno step through si è fatto male però voglio dire la partita nel primo tempo era giocata ad armi pari e la differenza ripeto da metà primo quarto in poi si è vista onestamente su tutti i fronti quindi ecco le finals sono scontate le finals sono finite insomma diciamo che sono molto indirizzate l'infortunio di Debayo e Dragic hanno indirizzato ulteriormente se ci fosse bisogno se ce ne fosse stato bisogno di indirizzare ulteriormente le finals io credo comunque che Miami almeno una se la porta a casa sarebbe anche giusto nei confronti da un punto di vista prettamente di rispetto sportivo per i Lakers far vincere una partita a Miami visto la cavalcata dei Miami in questi playoff non dico che i Lakers ovviamente non giocano la partita però magari sul 3-0 un 3-1 si può fare anche se 3-1 insomma è sempre un risultato pericoloso visto l'andazzo di quest'anno da parte dei Nuggets però Lebron sotto 3-1 è stato poi vincitore nel 2016 quindi non mi preoccuperei più di tanto da tifoso Lakers e per i tifosi Lakers detto questo è 2-0 Anthony Davis finals MVP secondo me al momento non c'è molto da dire Lebron è vero ha giocato una gara 2 stratosferica ma Anthony Davis secondo me overall tra gara 1 e gara 2 sta dimostrando di essere un giocatore al momento imarcabile al momento troppo dominante e forse forse ma molto forse il miglior giocatore in NBA in questo momento certo con Leonard con Lebron con magari Giannis è un po' difficile dire il miglior giocatore in NBA però onestamente parlando quello che sto vedendo alle finals di Anthony Davis è un giocatore cioè inspiegabile letteralmente inspiegabile troppo dominante ok quindi abbiamo parlato delle finals ovviamente siamo solo a gara 2 però diciamo che un po' di conclusioni possiamo già tirarle riguardo a queste prime due partite direi quindi passare agli altri rumors siccome non ho nessuna immagine per Doc Rivers a Philadelphia lascio Anthony Davis così i tifosi Lakers possono godere un altro pochino allora Doc Rivers a Philadelphia è stata una una scelta abbastanza rapida perché è stato annunciato un paio di giorni dopo il licenziamento dai Clippers quindi Philadelphia ci è andata giù pesante con Doc nel senso che appunto ci è andata convinta 5 anni di contratto per Doc Rivers quindi non un breve termine ma un bel lungo termine 5 anni di contratto sono tanti evidentemente Doc Rivers ha scelto un po' la strada facile ha scelto Simmons e Bid come duo nuovo da diciamo guidare ai playoff slash guidare alle finals si spera per Philadelphia ora posso parlare da non tifoso Philadelphia ma da diciamo persona che si affida un po' a quello che è successo in questo periodo se io fossi stato Elton Brand che è il GM dei 76ers non avrei scelto Doc Rivers per un semplice fatto ora vedendo come i Clippers sono usciti male vedendo come ci sono stati gravi problemi in attacco da parte dei Clippers gravi problemi anche in difesa da un certo punto di vista da parte dei Clippers se io sono una squadra come Philadelphia che devo rilanciarmi devo riemergere perché Philadelphia prima di essere sconfitta da Leonard e il suo buzzerbitter era immersa poi invece si è sommersa completamente quest'anno quindi come squadra riemergente io non avrei mai scelto Doc Rivers come allenatore avrei virato su altri profili magari neanche D'Antoni da questo punto di vista se proprio qualcuno vuole farmelo notare Tyronn Lue io vi ho preso una figura un pochino più diversa che tra l'altro sta venendo intervistata anche da altre squadre che è Dave Jorger Dave Jorger che è l'ex allenatore dei Sacramento Kings e soprattutto dei Memphis Grizzlies dove ha fatto vedere ottime cose e non capisco perché Jorger sia stato messo così in disparte secondo me è un ottimo allenatore scuola scuola Lionel Hollins non Ryan Hollins quello è un altro Hollins lasciamo perdere scuola Lionel Hollins che ha fatto molto bene con la Memphis del grit and grind Gasol Randolph Conley Tony Allen insomma quella Memphis del giocare duro della difesa ferrea Jorger arriva da quella Memphis e onestamente parlando secondo me potrebbe essere poteva essere una scelta migliore rispetto a Rivers e ad Anthony e sicuramente Tyronn Lue se prendiamo come metro di giudizio il il recente passato cioè nel senso i risultati passati D'Antoni esce al secondo turno dei playoff Rivers esce anche lui al secondo turno ma in maniera molto più rocambolesca in maniera molto più rumorosa Rivers ovviamente se riceve l'offerta dei 76ers che diciamo dal punto di vista del talento con Embiid e Simons una delle squadre più pronte tra virgolette da questo punto di vista a tornare playoff tra le squadre che probabilmente che sono rimaste a tutti gli effetti perché sono rimaste Indiana che sta facendo un sacco di interviste Oklahoma City che ovviamente non ha molto da dire Pelicans che secondo me hanno bisogno a questo punto preferirei D'Antoni ai Pelicans sarò onesto perché comunque D'Antoni gioca con i piccoli ai Pelicans si trovebbe una squadra giovane una squadra fatta di piccoli secondo me D'Antoni ai Pelicans potrebbe essere anche una cosa fattibile da un punto di vista prettamente di roster come è strutturata Pelicans rimane ancora Minnesota no Houston volevo dire scusate Minnesota ce l'hanno dopo Houston rimane ancora senza allenatore insomma ci sono ancora parecchie squadre senza allenatore e Doc Rivers tra quelle rimaste ovviamente va a scegliere quale quella che ha più talento e quindi Philadelphia ora con Doc Rivers chi viene scambiato qualcuno viene scambiato verranno fatti dei cambiamenti allora io credo che con l'arrivo di Doc Rivers se dovessi scegliere su chi viene scambiato più facilmente che non vuol dire che viene scambiato vuol dire più facilmente tra Lakers e tra le scusi non Lakers tra Simmons e Embiid direi che viene più facilmente scambiato Simmons perché comunque Doc Rivers ha una storia di lunghi nelle sue squadre KG a Boston è vero altra epoca 2008 decisamente altra epoca nel recente passato DeAndre Jordan Black Griffin ai Clippers Zubac Errol diciamo che lui difficilmente si allontana dalla figura del lungo difficilmente lui rinuncia al lungo per andare piccolo per andare con la small ball definitiva totale 5 ali piccole in campo e quindi ovviamente con Embiid in squadra farei fatica a vedere una Philadelphia senza Joel Embiid ricollegandomi al discorso di Tredare Simmons vi cito l'ultimo rumor uscito che secondo me è una cosa imbarazzante per entrambe le franchigie ovvero Ben Simmons che viene scambiato per la 1 di Minnesota si parla di questo scambio con la 1 Philadelphia sceglierebbe la Melo Ball ora la vera domanda è che se ne fanno i Timberwolves di Ben Simmons che forse è una domanda sbagliata perché comunque di Ben Simmons non è che non te ne fai nulla Ben Simmons è comunque un signor giocatore nella mia opinione però diciamo che ovviamente va un po' a cozzare con l'immagine di Carl Anthony Towns è vero Towns è un giocatore diverso da Embiid Towns è un giocatore più perimetrale è un giocatore più flessibile in attacco di Embiid in difesa ovviamente non c'è paragone a Embiid e anni luce avanti però da un punto di vista prettamente di spaziature offensive Simmons potrebbe anche funzionare con Towns se Towns però si accontenta di giocare fuori che vedendo anche l'anno scorso highlights e partite di Minnesota comunque abbiamo visto che Towns gioca sempre più fuori dall'area rispetto che dentro l'area quindi Simmons tecnicamente potrebbe giocare insieme a Towns da questo punto di vista in difesa poi sarebbe anche da vedere cosa succede la domanda è ok se quindi Towns gioca fuori dall'area che per me è un male Simmons guida la fase offensiva di Angelo di Angelo Russell che cosa fa? è vero allora in una partita di pallacanestro NBA in particolare ci sono più di 100 possessi in questa NBA oramai è appurato ci sono più di 100 possessi quindi chiaramente su 100 possessi su un sample size di 100 possessi è chiaro che non tutti i 100 possessi saranno uguali quindi alcune volte la palla la porta su Simmons alcune volte la porta su Russell alcune volte giochiamo il pick and roll Russell Towns alcune volte Russell Simmons alcune volte Simmons Towns cioè quindi abbiamo delle situazioni diverse durante la partita però secondo me togliere tanto la palla dalle mani di Angelo Russell lo rende un giocatore meno utile di quello che in realtà è tra l'altro dobbiamo ancora vedere a tutti gli effetti Russell e Towns giocare un anno intero nella stessa squadra e vedere quali sono i risultati però ecco secondo me da questo punto di vista Minnesota non farebbe un buono scambio è vero andresti comunque su un giocatore già affermato che è Simmons piuttosto che prendere un rookie che entra anche in una situazione particolare perché comunque questo è il primo draft nella storia dove si fa un draft durante una pandemia mondiale quindi anche una situazione un po' particolare in cui entrare in NBA anche queste cose forse incideranno sul draft o comunque sui giocatori che entrano al draft non è una situazione facile neanche tutt'oggi quindi ecco è una situazione un po' particolare anche quella del draft della off-season le tempistiche la data perché siamo a novembre quando si parla di draft di solito si fa a giugno quindi è tutto molto particolare io onestamente se fossi Minnesota più che Philadelphia ovviamente la farei Minnesota non la farei non sarei così sicuro Philadelphia prenderebbe la Melo Ball perché ovviamente è il playmaker che andrebbe a sostituire Simmons e sarebbe il giocatore del pick and roll con Embiid Philadelphia secondo me ha però la priorità di tradare non Ben Simmons ma all'Orford e il suo contratto se già riescono a tradare quel contratto secondo me Philadelphia ha già fatto un'ottima off-season perché ovviamente il contratto di Orford è difficilmente scambiabile visto che ha altri tre anni a 30 milioni a salire quindi passiamo a parlare di Paul George perché poi mi collego così al discorso al discorso Kyrie allora a quanto pare sembra che i Clippers vogliano cambiare qualcosa perderanno sicuramente Montresel Errol in free agency perché è free agent arriva da un anno come sesto uomo dell'anno e quindi Montreselone chiederà i soldi e soprattutto chiederà anche di essere titolare per quanto riguarda il titolare non credo ci possano essere problemi per quanto riguarda i soldi invece sì perché i Clippers non possono dare i soldi che Errol chiederà quasi sicuramente Errol prenderà sopra i 20 milioni e non è una cifra che i Clippers possono investire con Leonard e George in squadra e quindi per cercare di rinforzare la squadra i Clippers faranno andare via Errol e cercheranno con i soldi che avanzano di imbastire una squadra che possa puntare al titolo con un altro allenatore in tutto ciò però Jason McIntyre di Fox Sports dice un'altra cosa dice che una delle sue talpe una delle sue fonti dice che Paul George è diciamo messo in mezzo in alcune discussioni circa qualche trade che arrivano che arrivano direttamente dai Clippers quindi qualcuno all'interno del management Clippers o comunque vicino ai Clippers dice che ci stanno pensando che non vuol dire che lo tradano vuol dire che stanno esplorando evidentemente delle situazioni possibili per un'eventuale trade di Paul George una di queste di queste trade sarebbe con i Brooklyn Nets e insomma chiaramente né Kyrie né Durant arriverebbero ai Clippers e quindi qualcuno potrebbe chiedermi ma allora quindi che che giocatori dovrebbero arrivare ai Clippers per 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 dare via a Paul George beh i nomi sono sempre quelli Dean Whitty Levert Jared Allen siamo sempre lì il contratto di Paul George è un contratto da 30 milioni e quindi i Nets avendo il contratto di Durant e di Kyrie devono ovviamente dare delle cifre simili quindi il contratto di Dean Whitty 17 il contratto di Levert siamo lì credo sia 15-16 e poi Jared Allen se i Nets vogliono cedere pure Jared Allen perché credono che non serva o comunque non reputano che Jared Allen possa essere più utile alla causa tra l'altro Jared Allen sarà free agent l'anno prossimo e vorrà i bei soldi quindi quasi sicuramente i Nets non potranno pareggiare le offerte per Allen e quindi sicuramente Allen andrà via da Brooklyn a questo punto lo metto dentro uno scambio e cerco di prendermi qualcosa per quanto riguarda il discorso dei Nets chiaramente è all in con Kyrie e KD che rientra dal tenere d'Achille vuoi vincere subito devi vincere subito e quindi Paul George sarebbe quella figura che andrebbe ad inserirsi nel contesto dei Big Free dei Brooklyn Nets ora cosa ne pensi di questa eventuale trade beh vedendo onestamente parlando gli ultimi playoff di Paul George se io devo fare affidamento alla gamba di Durant e alla spalla di Kyrie prenderei e cercherei di prendere magari un giocatore un pochino più affidabile soprattutto perché Paul George visto i problemi alla spalla anche lui non se la passa bene con gli infortuni quindi insomma Durant che rientra un tenere d'Achille Kyrie che è sempre infortunato Paul George che è sempre infortunato io onestamente non sarei così entusiasta da tifoso Nets di questa trade da tifoso Clippers non lo sarei nemmeno perché se io voglio rilanciare la mia franchigia dopo un flop epocale come quello di quest'anno beh se scambio Paul George quantomeno deve arrivare un'altra stella cioè dove a Paul George arriva Bradley Bill dove a Paul George arriva McCollum arriva scambio Paul George arriva James Harden mega hyper fanta trade però però nel senso scambio Paul George che adesso non facciamolo passare come un giocatore da Paul George per una scelta al secondo giro Paul George non va alla scelta al secondo giro parliamoci chiaro Paul George è ancora un signor giocatore non lo metto in dubbio e spero che nessuno lo metta in dubbio certamente visti gli ultimi playoff un po' di dubbi però sulla sua resa nella postseason ci sarebbero da far venire e su quello siamo d'accordo sono il primo a dire che playoff P non è proprio playoff P più pandemic P però non è neanche quel giocatore per cui i Clippers si sono svenati perché i Clippers hanno ceduto Shaymet Gallinari Shai e 87 scelte al primo giro per i prossimi 92 anni tant'è che i Clippers non hanno più scelta al primo giro nei prossimi anni quindi manco tencare possono non possono neanche tencare perché non hanno loro scelte quindi se i Clippers tencano e prendono la scelta numero 1 quella scelta va a Cloma City quindi non possono manco tencare se Leonard l'anno prossimo saluta e va via i Clippers sono messi malissimo molto male quindi vista anche questa assenza di scelte per Paul George deve arrivare sicuramente un altro grande giocatore non possono permettersi di affidarsi a Jarrett Allen a Dean Whitty e a Karis Levers che non sono brutti giocatori anzi sono giocatori anche interessanti in particolare Allen e in particolare Levers sono giocatori molto interessanti però i Clippers non possono presentarsi l'anno prossimo a Ovest con Leonard e poi Karis Levers come secondo miglior giocatore poi per carità magari funziona pure meglio anche in vista del prossimo allenatore che non si sa ancora chi è però magari funzionano pure meglio e voglio dire funzionare peggio dei Clippers dei playoff di quest'anno la vedo dura però poi quando arrivi ai playoff hai bisogno di quei 2-3 giocatori che ti fanno la differenza certo ci sarà ancora Lou Williams però solo Kawhi e Sweet Lou 35enne non bastano secondo me a Ovest per emergere e quindi per Paul George onestamente farei una trade ma non quella con i Brooklyn Nets per questo motivo Brooklyn perché prende un giocatore ripeto anche lui injury prone e ne hai già due in squadra quindi magari evitiamo i Creepers secondo me devono cercare qualcosa di più per Paul George e quindi passiamo a Kyrie l'ultimo argomento del video e poi me ne vado a letto Kyrie che ha diciamo utilizzato delle parole abbastanza particolari per quanto riguarda per quanto riguarda uno il suo compagno di squadra Kevin Durant in relazione al suo ex compagno di squadra che vedete sotto Lebron e come seconda cosa le parole sull'allenatore perché sono parole che secondo me possono onestamente alzare parecchie domande circa la situazione Brooklyn Nets ora prima di leggere quello che ha detto vabbè che lo potete leggere qua quello che ha detto Kyrie sperando che chi ha scritto l'articolo qui su NBA Passion abbia tradotto bene che non vuol dire che sto mettendo in dubbio che chi ha scritto l'articolo non sappia l'inglese sto dicendo che magari ha tradotto male le parole di Kyrie Kyrie e Durant hanno fatto fuori Atkinson e questo oramai è risaputo Atkinson non ha esperienza playoff non ha esperienza finals Atkinson non è un allenatore con molta esperienza e quindi loro lo hanno sostanzialmente hanno detto no noi non vogliamo giocare con Atkinson viene preso Steve Nash che è un allenatore totalmente senza esperienza Nash non ha mai allenato prima però Nash conosce Irving da anni personalmente e ha lavorato con Durant i Warriors Steve Nash era uno degli addetti allo sviluppo dei giocatori sviluppo individuale lui lavorava individualmente con i giocatori lo avete visto anche lavorare con Steph quindi insomma con Durant ci ha lavorato conosce Kairi lo conosce da tempo tecnicamente è una presa che ci può stare per quanto riguarda far contente le tue due stelle prendi un allenatore che entrambi conoscono è vero non ha alcun tipo di esperienza però almeno da un punto di vista prettamente di conoscenze ci siamo però Kairi con queste parole che tra poco leggerò mi mette un po' sul chi va là mette un po' di dubbi quello che ha detto e io onestamente credo che forse le sue parole siano state un po' fraintese su quello che vuole dire però comunque non suonano molto bene quindi Kairi parlando di Durant dice per la prima volta mi sento come se ci fosse un altro figlio di puttana in squadra che potesse prendere quel tiro ovviamente si parla del del tiro gara 7 2016 mi sono sempre sentito a mio agio in queste situazioni mi sono sempre sentito la migliore opzione possibile in ogni squadra per chi abbia giocato si parla ovviamente di tiri clutch tiri sulla sirena ma qui sarà più semplice Brooklyn in passato però ci sono state occasioni in cui non fui io a prendere quell'ultimo tiro e mi sono sentito un po' colpevole vuoi essere tu a prenderti la responsabilità ma allo stesso tempo vuoi dar fiducia ai tuoi compagni io mi fido di loro ma so che sono l'uomo migliore e va bene ok ci sta come discorso nel senso tu sai che se la palla vai a me 99 su 100 la metto dentro però è anche giusto che magari qualche partita la perdiamo per dare fiducia ai compagni ci può stare come discorso io magari mi sarei l'ultima frase non l'avrei detta Kairi te lo dico l'ultima frase non l'avrei detta mi sarei fermato qua se ti fermavi qui andava bene quest'ultima frase bene ma non benissimo fattelo dire insomma un semi-dis a Lebron nel senso che insomma per la prima volta mi sento un altro figlio di puttana di squadra potrei sapere col tiro non è proprio diciamo un complimento verso Lebron però vabbè ok però la parte più scottante secondo me è questa qua cioè la parte su Steve Nash perché appunto sono delle parole abbastanza preoccupanti preoccupanti o meglio delle parole abbastanza sarà uno sforzo di tutti parlando della stagione prossima non vedo questa squadra come se avesse un capo allenatore è già qua panico panico in aula mi spiego ecco beh meglio che di potrebbe essere l'allenatore io potrei essere l'allenatore ok Nash e io abbiamo una relazione che va indietro di anni Steve non mi conosce attraverso quello che si dice ci conosciamo dal 2014 quando lavorammo assieme e da lì è cresciuto un rapporto di rispetto lo rividi due anni fa quando entrò nella Hall of Fame ci abbracciamo ed ora è il nuovo allenatore io vorrei qualcuno che capisca prima di tutto che sono un essere umano che serve la sua comunità come prima cosa e che gioca a basket perché è una cosa che ama fare Steve Nash apprezzato come un grande giocatore ma quando lo si conosce di persone è facile intuire quanto bene potrà coesistere con noi non abbiamo bisogno di qualcuno che arrivi e voglia imporre la sua filosofia e cambiare tutto allora io non ho capito un cazzo ve lo dico onestamente e non perché sono le sette e mezza di mattina ma perché non ho capito qual è il discorso di Kyrie in tutto ciò cioè nel senso sarà uno sforzo di tutti e fin qua vabbè meno male non vedo questa squadra come se avesse un capo allenatore ok allora quindi tu vuoi intendere che Steve Nash cioè lui intende dire almeno da quel che cerco di tradurre che lui dice che Nash non è quel padre padrone quell'allenatore allenatorone che arriva e detta le regole cioè dice che allora giochiamo così 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 facciamo questo questo ma Nash dovrebbe essere quel giocatore allenatore quasi quella figura ibrida da traghettatore slash quello che tiene unita la squadra cioè Nash non è quello che allena cioè o meglio è quello che allena però non è quello che è quello che gestisce il gruppo e non è quello super 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 rigoroso che rompe i maroni nel senso che si qualche dettame di come giochiamo va bene però tutto sommato palla Kairi palla KD e ci abbracciamo più o meno dovrebbe essere questo Nash mi spiego KD potrebbe essere l'allenatore io potrei essere l'allenatore cioè nel senso che c'è una sorta di tutti allo stesso livello quindi una sorta di appunto KD è un allenatore giocatore quasi KD fa letteralmente da fa letteralmente da quello che gestisce da quello che cerca di spegnere gli incendi tra i giocatori quello che dà delle indicazioni singole quello che dà degli accorgimenti ma non quello che allena soprattutto quello che arriva e fa il gradasso no sì ho capito che KD potrebbe essere l'allenatore io potrei essere l'allenatore però non sono cose da dire cioè nel senso a parte che tu e KD siete gli allenatori parliamoci chiaro però non l'avrei detto io onestamente parlando Nash poi cerca di accortosi dell'errore cerca di spegnere un po' l'incendio che ha scatenato vorrei qualcuno che capisca prima di tutto che sono un essere umano che poi aggiunge queste frasi che io non ho ben capito che serve la sua comunità come prima cosa va bene ok gioca basket perché è una cosa che ama fare va bene ok Steve Nash apprezzato come un grande giocatore ok ma quando lo si conosce di persona è facile intuire quanto bene potrà coesistere con noi quindi è uno che si piega è uno che capisce le necessità dei giocatori va bene ma quello è più un gestore che un allenatore cioè è vero l'allenatore deve saper gestire le stelle deve saper gestire il gruppo però secondo me l'allenatore non deve essere il gruppo o comunque non deve essere una figura ibrida una figura che si mischia con la squadra deve mischiarsi con la squadra per quanto riguarda ovviamente l'esaltare i giocatori nel fare dei discorsi anche durante i time out che sproino la squadra che aiutino i giocatori e migliorare quindi che sia una sorta di sì giocatore aggiunto super veterano quindi con tantissima esperienza però secondo me l'allenatore comunque deve essere distaccato dalla squadra l'allenatore è quella persona che è responsabile dei risultati della squadra non in toto perché ovviamente sono i giocatori che entrano in campo però l'allenatore ha sicuramente una percentuale di riuscita delle performance della squadra quindi secondo me Nash non deve entrare e fare quello che dice ok che Dio ok Kyrie pendo dalle vostre labbra ditemi cosa facciamo io credo che Nash debba invece imporsi il contrario di quello che dice Kyrie io invece credo che Nash debba imporsi nel bene o nel male poi sarà il campo a decidere però insomma secondo me Nash non deve entrare con i piedi di piombo Nash deve entrare secondo me cattivo a gamba tese e dire ok ragazzi allora abbiamo bisogno di dare un'indicazione soprattutto con Kyrie e Kyrie che sono due giocatori che sappiamo magari Kyrie no avendo giocato ai Warriors quindi è già un pochino più incline al gioco di squadra ma Kyrie onestamente parlando non lo vedo molto inclina a questo tipo di pallacanestro invece Nash secondo me deve imporre questa filosofia a differenza di quello che dice Kyrie quindi non sono molto d'accordo con quello che dice Kyrie e anzi lo trovo che siano delle dichiarazioni abbastanza pesanti certo non pesanti contro l'allenatore però pesanti come impatto per la stagione dei Nets io non le avrei dette queste parole e credo che qualcuno si sarà fatto sentire con Kyrie dopo parlo di molto più in alto parlo di Sean Marks che è il GM e parlo anche di figure superiori parlo del nuovo presidente non sono parole che io avrei avrei detto non sono cose che io avrei detto e spero che Kyrie non le pensi veramente queste cose che ha detto potrebbe esserci anche l'alternativa e poi concludo che Kyrie abbia usato queste parole per gettare un po' di benzina sul fuoco per dare un po' di l'ho detto anche in live prima quasi di fare un cambiamento da il puro parlando quasi WWE quindi diventare il cattivo di turno quello che torna insieme a Durant altro grand cattivo nel senso appunto per la scelta di Durant che ha fatto andare Warriors quindi entrambi sono i cattivi sono i cattivi per cui di solito fa il tifo però nella WWE molti apprezzano di più gli ill che i buoni apprezzano molto più i cattivi che i buoni e stessa cosa potrebbe succedere qui quindi che Kyrie dice queste parole con taglio molto ill che Durant è già il di suo anche se torna da un tende da Achille quindi diciamo che un po' la situazione è migliorata con Durant però insomma questi grandi cattivi dei Nets che addirittura si permettono di dire che Nash non è l'allenatore ma una sorta di giocatore aggiunto che li allena che si siede in panchina ma in realtà è lì solo per gestire il gruppo non per allenarli insomma potrebbe averle dette anche con questo tono per ovviamente anche far scrivere giornali e per far fare tardi a me detto questo è stato un video lunghissimo io vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo per la fine delle finals a questo punto se finiranno in quattro partite farò il video riassuntivo altrimenti ci vediamo fra due partite delle finals a meno che non succedano trade ma è impossibile che accadano trade adesso oppure che invece i posti d'allenatore siano conclusi ovvero che le squadre che appunto non hanno ancora allenatore annuncino tutti gli allenatori e allora magari poi possiamo tornare a fare quelle fanta trade che ho provato a fare in un video e magari potrà diventare anche una serie prossima futura quindi finite le finals magari facciamo per ogni squadra delle fanta trade e magari chiederò anche a voi di prepararmene qualcuna ovviamente spiegandomi il perché le varie squadre dovrebbero fare questi scambi così che appunto possiamo discutere su come tutte e 30 le franchigie NBA potrebbero muoversi in off season per migliorare la propria squadra oppure per cercare di tankare il meglio possibile io vi ringrazio e vi saluto ci vediamo al prossimo video